Un borgo tra i più belli d'Italia, la tradizione gastronomica abruzzese che si snoda tra i suoi vicoli e le piazze, sette generi musicali live associati a vini che raccontano note di carattere differente per ognuno di essi e poi l'atmosfera delle notti d'estate. A Città Sant'Angelo dal 31 luglio al 3 agosto si inaugura la prima edizione di Heat Parade, Sapori in Musica. Per noi è davvero un onore ospitare questa manifestazione in primis, prima di tutto perché è organizzata da un'associazione composta da ragazzi, ragazzi angolani che hanno come scopo la promozione di Città Sant'Angelo e la valorizzazione della nostra città. Quindi noi lo accogliamo veramente con orgoglio e invitiamo tutti a partecipare a questa manifestazione perché ce n'è davvero per tutti i gusti. Un percorso enogastronomico pensato per soddisfare ogni gusto. Da quello del palato a quello musicale senza dimenticare quello degli occhi di fronte al fascino di una veduta dall'alto del belvedere. Una scommessa che viene messa in campo da un gruppo di giovani angolani desiderosi di promuovere e far conoscere tutto il fascino della loro terra. Il comitato organizzatore è proprio un gruppo costituito totalmente da giovani angolani. Andremo a fare questa manifestazione sia per i giovani ma per tutta la popolazione di Città Sant'Angelo e dintorni. Sarà un vero e proprio street food music party con sette postazioni ogni sera, ognuna con un contesto musicale ed enogastronomico. Svarieremo in tutti i generi musicali, quindi passiamo dal rock alle cover band, la musica italiana, il jazz, i DJs e i balli di gruppo. Ad ogni impostazione sarà abbinata un determinato tipo di alimento, passando dagli arrosticini, la mugnaia, il pesce, e cose più particolari fino alla degustazione di vini particolari tutti locali.